La cultura e l'intera sfera della conoscenza, giacimenti di un passato glorioso, devono tornare a essere determinanti per la crescita reale e per la rinascita della partecipazione e della democrazia perché esiste una stretta relazione tra crescita culturale e sviluppo. Così insegnanti, medici, avvocati, architetti, giornalisti, magistrati, studenti, universitari che hanno frequentato le aule del liceo classico video quando era in piazza 20 settembre, lanciano la costituente della cultura. Uno scatto di orgoglio quello degli ex liceali che riaccendono i riflettori sia sulla sede storica di piazza 20 ma soprattutto su cosa essa per loro rappresentato. Sentiamo il dovere di farlo pubblicamente, di dire con fermezza che la civiltà moderna ha estremo bisogno di uomini e di donne che conoscano la cultura della democrazia che abbia origini nel mondo greco classico di studiosi di Gran Erbo, per dirla con Antonio Gramsci, che siano capaci di risolvere le questioni sociali con lo spirito di sacrificio e l'abitudine a mettersi continuamente in discussione, proprio come avviene nell'esercizio di traduzione dei classici, greci e latini intervengono in coro spiegando che l'iscio classico consente di immaginare quello che non è stato ancora immaginato e palestra per la mente che allena lo studente a diminuire il rischio di poter essere ingannato nella vita. In questa palestra la cultura non è quindi solo giacimento di un passato glorioso ma sorgente di responsabilità e di valori universali per gli ex studenti che hanno dato vita alla costituente per la cultura una buona educazione classica è fondamentale per rendere inventivo e fecondo anche l'universo della ricerca scientifica e tecnologica.